Salve a tutti ragazzi, io sono Sonatok e oggi iniziamo Zombie Panic in Wonderland DX Ragazzi, non so cosa aspettarmi da questo gioco, è nella mia libreria palesemente per le anime girl Ma te lascialo a questo, qui dalmeno posso leggere modalità arcade E visto che c'è un mirino sullo schermo, suppongo che sia uno sparatutto Lo scopriremo immediatamente Non so nulla Ok, tanto tempo fa Ok Sì, la domanda anch'io, dove sono finiti tutti e soprattutto tu? Cosa ci fa in questo posto? Ecco il nostro primo zombie che ha però dei cuoricini al posto degli occhi Trasformata in modo decente sarebbe potuta essere una bellissima eccitazione a Resident Evil Fantastico come sia in più alta qualità il gioco, giustamente Che il filmato Ci sta dando qualcosa? Ok, quindi abbiamo un colpo potente Oh, ma proprio così E c'è un'interazione circostante se va a qualcosa Ragazzi, nascono da terra Musica C'è una differenza tra i colpi lanciati da altre parti del colpo e i colpi alla testa? Ok, ora che abbiamo un po' più di spazio e proviamo Uno, due Uno, due Non riesco a contarli Ah, non hanno un granate, eccole Ciotole Quindi abbiamo già avuto la prima tipologia diversa di zombie Questi dovrebbero essere mercanti? Caspita Non era quello che mi aspettavo, ragazzi Qui il gioco mi ha già parecchio deluso Questo non è, anime girl Perché sta sparando? Vabbè, giustamente Dato che il grasso è più potente, giusto? Abbiamo anche il teppista Passeranno il film e mi vengono addosso Mi vengono addosso Essimilare a bici Quindi mi stanno dicendo che posso colpire l'ambiente circostante Non è quello che mi aspettavo, ragazzi Però c'è da capire come mai gli zombie Hanno questi occhi così Giustamente C'è di tutto in questo paese Lattatori di sumo Negozianti Giustamente, oserei dire Questi che invece escono da vicino C'è un motivo per cui escono da corsi vicino Ragazzi se mi avete visto farmi colpire Ma Il motivo è che stavo Certando di capire Cosa il nostro protagonista stava sparando 59% distruzione Ciò vuol dire Che devo distruggere l'ambiente circostante Quest'essere prima è apparsa ai nostri piedi all'inizio Non era per niente quello che mi aspettavo Sembra molto di più una cosa alla Serran Kagura, ragazzi Non c'è sirità in questo E' tutto Un gameplay vilato per O meglio una storia Così Unbozzato Giusto per Una meccanica di gameplay Che gli sviluppatori volevano affrontare Cioè Nella mia testa La cosa da non fare E colpire appunto Lughi inutili Come Quelli circostanti Per non perdere tempo Unizioni e quant'altro Invece no C'è Una percentuale Di completamente distruzione Va distrutto il mondo Dispiace Power Rangers E cosa avevano di speciale? Semplicemente il fatto che possono uscire Dalle parti? Va a dire però che E' carino come gameplay Sarebbe Un qualcosa di perfetto Per gli smartphone Se non fosse per il grandissimo problema dei controlli Anche un uni Beh Noi veniamo da qualcosa di molto più potente Come dovrei schifarvi? E' anche bello poter capire In minima parte Tutto Con i nemici Ti ho preso Ti ho preso Se si avvicina Non posso usare la spada C'è un modo di cambiare arma? No Ho solo Non so che dire Certe volte capitano delle cose che Dico ok Forse è bello Proprio questo Ragazzi Non porterò tutto questo gameplay Perché questi ninja fanno il rumore di Bambini colpiti Quella bomba che passa lì in centro Probabilmente era da tenere fino alla fine E non dura Non lo porterò tutto ragazzi Naturalmente Salvo che non sia davvero breve E completabile In maniera molto Veluce Non credo che ce ne sia bisogno Oh Forse abbiamo un primo boss Distrungo l'ambiente circostante Anche solo per poter trovare degli oggetti Verso Nelle bruce Quanti ninja Quanti ninja Dovrebbe essere una specie di bonus Dammi tutto quello che è possibile Eccolo Sì vicino Aspita Ok Ma si può schivare C'era qualcosa che non mi tornava Beh se posso schivare Sono praticamente immortale Ma si è fatto così Ho lanciato così i suoi figli Tranquillamente in combattimento Questa mostra è peggio di alza thumb Ok Perché però mi ha colpito Questa non è la sua traiettoria Prima di tutto devo schivare Non è importante dove O come colpisca Interessante però Stato questo punto di vista Sì continuiamo In verità Grazie a dire che rimanesse Il puntatore Su schermo Quando succedono questi intermezzi Ma Ci attende Ci vediamo direttamente al boss Ragazzi Lo devo essere sincero Non capisco Dove è la sua faccia Però Abbiamo tante armi Ora dovrei capire Semplicemente Come utilizzate Anche il lanciafiamme Perché io voglio utilizzarlo Forse non è che ci uccide È un'attacca d'aria Per quello che in qualche modo Sono stati colpiti Beh dovresti guidare un poco meglio Un pollo Ecco perché non sa volare Ora è un cane Non so che dire Ragazzi Quasi tante cose Che stanno succedendo Così Non è un altro più debole Però di prima Almeno Dal punto di vista Di difesa Ora è una scena Sia un boss Così particolare In quanto tutorial Non ho mai sentito Parlare di questa serie Di giochi Mi stupisce infatti Che sia nella mia libreria Ma Forse È una serie appunto E C'è un motivo Se Questo personaggio Non c'è stato mai Contato dall'inizio Non ci hanno spiegato Chi è Com'è Perché qui Ci sarà sicuramente Un motivo Oltre Quello Goliartico Viene Nel Raccontateci Cosa è successo Allora A me E a voi Ragazzi Dopotutto Per quanto Questo gameplay Se l'ho accorto Naturalmente Dobbiamo conoscere Qualcosa in più Mi saltano Fermatevi Quindi Nulla Di tutto questo Ci hanno semplicemente Raccontato Che sono stati rapiti Con diverse storie Che si intrecciano Giustamente La foresta di Oz Ragazzi Un mescoglio Di storie Giusto per raccontare Un qualcosa Di più grande Comunque Non per raccontare Ma anzi Per mostrare Un qualcosa Di Particolare Com'è Il gameplay Di questo gioco Nulla di Eccezionale Anzi Uno spattato Su binari Bisogna Capire La storia Nel senso Non la storia Che cerca di raccontarci Quella Lasciamola perdere Intendo La storia Di questo gioco Gli intermezzi Animati Quanto Carini Sono il massimo Anzi Si vede Che sono vecchi Ora Sono vecchi Perché fatti In qualche modo Con poco budget Quindi di conseguenza Hanno pochissimo Di animazione Oltre che Di risoluzione Intendo Oppure C'è un motivo C'è un qualcosa Che Mi sto perdendo Cioè Tipo Questo gioco È un rifacimento Di un gioco Molto più vecchio Quindi hanno Lasciato Gli intermezzi Del gioco originale O comunque Portati a una risoluzione Decente Ma di fatto Sono semplicemente Un rifacimento Potrebbe essere così Perché il gameplay Mi sembra molto più Giocattoloso E ci starebbe Con l'idea Del remake Forse quel Dx Infatti Nel nome Sto proprio Per significare Quello Sì Lo vido Aspetta Si iniziano anche A creare i primi Problemini Con lo scudino Beh Non siete Chissà Quanto problematici In vita Bisogna solo Fare attenzione Mi basta Un piccolo Headshot Ed è finita Aspetta Ho usato Che sbagli La granata Comunque Non ho capito Che cosa è Se la granata O un bazooka Siete bellissimi Un invece Se posso Metterò Infatti Uno di quei Pulcini Vabbè Questi che volano In bicelli Cosa dovrebbero Oh Vieni qua Cosa dovrebbero stare Significale Oltre Che il gioco Vuole spiegarmi Il vento Questo Che Non si vede Che cosa è che usano Capisco Sono zucche Però la difficoltà è così nulla Che potremmo Anche stare fermi Ah che bel tira D'effetto L'eccola Ma non si può colpire Guardate come ci stavano Aspettando Ah quindi ok Quelli con le zucche A priori Che lo si colpiscano Dietro lo specchio Dietro la zucca Hanno anche La possibilità Di essere colpiti Quando si alzano In questo caso Per esempio Abbiamo distrutto Abbastanza tutto E abbiamo anche Un buon timer Arriviamo a questo boss Ragazzi Direi di finirla qui Non credo che sia necessario Perdere altro tempo Finirò il gioco Sicuramente Ma Tranquillamente Tra una pausa E l'altra Quando mi è possibile Mi è possibile È un gioco Da gustare così È un intermezzo Ogni tanto Per Spegarsi È un peccato Ed ecco il mago di Oz Vediamo la strega Spero che sia una Delle sue apparizioni E non originale Siamo liberate La cagnolina Voglio salvarti E sparo Ok Sono salvabili Ok Questi non sono cagnolini Sono scimmie Almeno del rumore Ci siamo vicino E non faranno qualcosa Dovrei lasciarmi Colpire Per scoprire Complimenti Al fisico Della strega E non è Aspetta 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 Il colpire Questo piccolo Anerottolo Non mi permette Di vedere bene Di schivare Quello che c'è attorno Ma lui è qualcosa di ben più prezioso di tutti gli altri nemici E ci hai provato Chissà se arriveranno anche i nemici Con le nostre pistole Ma non me ne aspettavo queste Ho attaccato tranquillamente È divertente ragazzi Se non altro da giocare è davvero divertente Dico da vedere non credo perché alla fine non è niente di che Anzi Sotto il punto di vista di sconfitte Per quanto non ce ne siano state per ora a parte il primo boss A parte quello non credo che sia bellissimo Semplicemente perché non c'è una trama Qualcosa bellissimo ho raccontato dietro Qualcosa che permetta di affezionarti al personaggio e al mondo È un bel gioco Cioè fine Un bel giochino magari Un bel giochino Devi fare quello che un gioco si prospetta di fare Cioè divertirti e farti passare un po' di tempo Ma io almeno quanto mi riguarda su questo canale ci tengo a portare grandi storie O comunque Piccole storie ben raccontate E questi qui prenderanno sempre nel sì un po' di tempo ma saranno appunto un contenuto secondario sicuramente Ma arriveremo a questo boss Piccolo Quindi sono 3 stage Suppongo quindi che dovremmo incontrare e salvare Queste ragazze Allora voglio capire una cosa Ok non posso Per uscire Ok Le opzioni Si è fatto in controller Ok Abbiamo la possibilità di cambiare così arma Granata Ok Perfetto Ora se non altro Per quanto non ci sia Un tutorial So come è possibile cambiare l'arma Sì certo Almeno sappiamo come abbattere questi nemici da vicino Conto di te Utilizzerò le armi che ho appena scoperta di avere Ecco queste erano quelle munizioni che ci venivano fornite Conviene colpirle Forse conviene distruggere prima le cose che ci lanci Ma non sono schivabili Beh E' questo che intendevo ragazzi Te l'ho lasciando la stravaganza delle mosse E' Quei cappelli alco che gli sono usciti così Ah Appende a Così Un tappo Lanciafiamo è utilissimo Il primo Lanciafiamo è bello nei videogiochi Ragazzi riesco a colpirla a quella distanza E' finito o hai qualche altra arma? Vado Sprecato così quel Lanciafiamo sì Spiro davvero che ho paura di essere colpito da uno di questi Per fortuna non ci succede niente Ok Meno male Avrei Tanta paura di scoprire Cosa ci sarebbe potuto accadere Abbattiamolo Farmo di prima di prima l'ha levato tantissime in più Guardate come l'ha ridotto No, allora semplicemente l'avevamo colpito in punti strategici Credo di essere stato tanto più bravo di prima Copriamo chi è però Commettiamo che c'è un nano dentro Ok, l'omino di latto è stato battuto Ora chi rimarrà? Il leone? Bellissimo Impacchettamento finale Da parte del gioco Ragazzi, parliamoci chiaro È un giochino Mi può piacere tantissimo giocarlo Vederlo non è davvero utile Se non per questi intermezzi Ma soppurvo che ci sia già una raccolta su YouTube Ah, ora si nasce anche Alice Quindi Noi ci salutiamo qui Alice Non ti ricordavo così Noi ci salutiamo qui Questo qui sarà un episodio secondario naturalmente Del canale e non un episodio primario Per chi non mi conoscesse e vede questo gameplay per la prima volta Ben immaginare che questo non è il contenuto principale del mio canale Per quanto sì, possono capitare questo genere di giochi Non credo neanche che sarà un video a eliminazione come quelli che faccio spesso Per quanto riguardanti giochi brutti Perché questo non è brutto Semplicemente non adatto Questo tipo di gameplay Sì Questa narrazione che ne faccio Dovrei distruggerti per quale motivo? Come ci sono? Non sono dodo Che sono? Dovrebbero essere Dei fenicotteri di Alice Ma non sono fenicotteri Non so che dire Quindi, grazie Grazie mille per essere stati con me Spero che questo gioco Per quanto Articolare vi sia piaciuto Surreale, ecco Diciamo surreale Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi Con un gioco che spero Abbia da raccontare Una storia più interessante E abbia argomenti più convincente In tantissimi abiti Questo Tutto questo punto di vista Mi hai un po' fregato il giochino Non ci sono gli animi peori O meglio Non sono così presenti Ora fammi capire Questi oggetti che prendo Sono utilizzabili in generale O smettono Di esistere All'infuori di questi episodi Non è più niente da darmi O mi darà qualcosa di molto grande Il mix Ragazzi Stavo per spegnere il gioco Ma prima di chiuderlo Sono andato un attimino A vedere gli achievement Per capire Quando mi sarebbe stato possibile Finirlo Per completismo Non peraltro E Ho potuto notare Che siamo praticamente A metà gioco Quindi Wow Non credevo Trovasse così poco Siamo stati fortunati allora Se È possibile Completarlo qui in live Ehm Mi ha dato tutto quello che dovevi dare O è alto Ma ci sta continuando a Venire Lo so Non c'entra niente ragazzi Potrei benissimo smettere Ma Il rumore che fanno È così divertente Soprattutto Loro sembrano i veri cattivi Di sparisce Però è sparito A priori o Vediamo se Li colpiamo così Se riusciamo in qualche modo A Scanzarli Eccoli 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 Niente Niente Non cambia Non vengono Riescono comunque a colpirne Quindi bisogna semplicemente Scanzarli Quando si avvicinano Spire lanciafiamme È un grande problema Che è quello di Crunter È quasi completamente La vista Un pesce Un pesce postino Non dovrei domandarmelo Però È giusto che lo faccia Non c'è un altro Perché magari Alcuno di voi Conosce O capisce La citazione Che io mi sto perdendo Ho visto È molto pericoloso Soprattutto per i vostri attacchi Infami Ho veduto No Ho visto Bellissimi Quindi il regno di Alice Qui chi sarà Il cattivo L'argina E soprattutto Quanti altri mondi Ci saranno Vorremmo Averne tre In totale Da fare Da completare Almeno Ripito Stando agli achievement Però Non ho visto quali Se tipo fossero Varie storie Oh Caspita Eccomi Ho preso Anzi Schivato Ce n'è un altro Eccolo Sì sì Eccolo Vedete Alla fine Lasciando Il gameplay Che Lascia desiderare Dal punto di vista Direction Ci sta Sì Beh sì Devo essere sincero Mi aspettavo un boss Ma ok Eh Guarda vita E c'è anche Riformito Adeguatamente Dunque sto vedendo Che le armi Prirato si stanno Consumando A meno i proiettili Quindi vuol dire Che Termina Così Nel senso che Tutte Le armi A fine Del Dello stage Che stiamo facendo Comunque si accumulano Non vengono Divise Dai Salviamo Alice Anche se Mi dispiace Poi non poterla utilizzare Ok Che il nostro Protagonista Appunto è lui Non è Alice Ragazzi È più Jill Che cosa c'è Nel tuo sugo Ci farei diventare giganti O minuscoli Mai un power up Ragazzi Mai un power up Quanto Sarebbe bello Se a inizio il gioco Venisse un personaggio A te fidato E ti dicesse Ecco Prendi questo Con questo Ah Questo regatto Credo Ecco a te Ecco È brutta l'ifo Qua 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 Voglio Mi sembrava Un'ambientazione Semplicemente Un effetto Di nebbia E tutta Un'interpretazione Degli slipatori Spero che ci sia Un'evoluzione In farfalla In qualche Mundo Quest'attacco Può essere Comunque Distrutto O Invece Cosa Siente Questo Non l'ho Capito Io mi Aspetto Benissimo Ragazzi Ad un certo Punto Lui In bikini Cioè Questa La tecnologia Di gioco Dovrebbe Essere Semplicemente Un'occlusione Della vista Funzionato Ci vediamo direttamente Al boss Ragazzi Non perdo tempo Qui Devo ammettere Non me l'aspettavo Neanche questa In me E tra l'altro Quale dovrebbe essere Il suo punto debole Ma che si sta Facendo Pericosamente Ed ecco il Cappellario matto Ragazzi Non è lui Per il boss Vero Siete Che attacchi Sono Merendine I talcetti Oh Dicendo ragazzi La distruzione L'ambiente La distruttibilità Data Anzi Allo giocatore La possibilità Di distruggere Tutto Tutto più che altro Da riuscire In quel caso A schivare Successivamente Nemici Che vedremo Nel senso che Se Dei nemici nuovi Arrivano qui All'improvviso Dalle Dagli Alperi Con noi distruggendoli Sapremo già Da dove arriveranno Avremo una possibilità Se un altro Di vederli Magari Non di schivarli Ma di vederli E eliminarli Prima del dovuto Sono Portone O panini Questi sono entrambe Guardi un taglio Troppo Io Mi sto stufando Via Via di qui Guardate Questa tazzina Quanto filo Da torcere Potreste darmi una vita Per esempio Non lo so Quella io Ma Quei era Un bel boss E anche il coniglio Per quanto Colpogne Lo stregatto È il vero boss C'è uno Vero Uno falso Ora il boss Ragazzi Sono troppo curioso Succo Sì Complimenti per quello che ha fatto Non me l'aspettavo per niente Beh ragazzi Torneremo Grandi Normalmente O giganti Guardate Sola sotto nel pavimento Com'è visibile Il luco Dell'immagine Che si è stata messa Sopra un png Mal tagliato È strana Questa cosa È davvero strana Questo gioco Probabilmente Se non quasi Sicuramente È molto vecchio E hanno semplicemente Ristaurato un po' La grafica Il gameplay Ed eccola Vabbè Non mi auguri Che mi taglino la testa C'è da dire che No Appunto Ho mantenuto Questo Bellissimo Stile anime Davvero particolare Ecco Stili Sperosi Ovunque È davvero Fare questa fase così Diretteremo Che vita O comunque Le fasi Sarebbero tutte Da fare E da vivere Sono appena visto Allora La regina Di Alice Nel Paese Dei Miraviglia Che utilizza Il re Che mi ha preso Lo scrivete tranquillamente Utilizza il re Tecato In modo In modo Particolare Mettiamolo così Utilizza Come arma Ok E quando lo ritira a sé Che può anche attaccarmi Però Questa fase Lì Va effettivamente Qualcosa O Vabbè no È solo per non attaccare Guardate i soldati Ragazzi Con Dell'armatura Dell'armatura particolare Sono tristi No 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 Bisogna per forza Farsi attaccare Non funziona Neanche Le nostre armi Potenti Sto attaccando male No no Ok Abbiamo arrivato qualcosa Basta Regina Calmati Sai che ti fa Rappiare così tanto Il fatto che abbiamo Rubato il tuo succo Sì Le stanno andando Pian piano Quindi anche loro Vanno una vita Tu sei quella Che è attaccato Più di tutte In verità Mi dispiace Piccolo sovrano C'è scritto Dietro lì C'è È un vero Combattimento Io credo Fosse Pinta ormai Mi sta Troppo Confandendo Tutto Ragazzi Non capisco Non capisco Non ho Una vita Sola Ho Praticamente Perso Se non La Batto Ora Non ho De De questi video su youtube essendo un uomo non l'ho mai trovato ma penso che un significato di demonetizzazione sarebbe più o meno questo stiamo andando in cielo quindi non può essere non è un cielo in inverno biancaneve forse rovinude non capisco perché la biancaneve la prima volta che non ci viene presentata una principessa così loro non c'entrano niente però spero spero in cattivi più esteticamente carini si gli alberi così biancaneve ragazzi c'è un regalo lì esattamente per voi credo distruggiamo tutte le casse dei villager e l'utilizzo di questi nemici qui ci sta trovo sempre loro con noi cappucci perché questa volta non c'è stato detto nulla dei nani noi abbiamo comunque le vite che ci sono state lasciate la volta precedente quindi quando abbiamo un game over il gioco ci dà tutte le vite e tutte le energie che abbiamo perso ecco perché mi ritrovo con granate aggiuntive che è proprio mettere una nuova monetina insomma è proprio volato eh e voglia di colperli con qualcosa di davvero pesante sono nani cattivi non può essere la fine questa c'è una vita proprio lì a sinistra peccato non può essere la fine perché so per certo insomma degli achievement che c'è in un altro mondo salvo che non sia magari un achievement di completismo di aver completato i mondi e aver finito il gioco potrebbe essere così però i nani in questo caso sarebbero perfetti magari viene da qui quello che ha scaduto tutto ok ragazzi stavo registrando ma questo dovete vederla c'è Babbo Natale non erano i nomi erano elpi o comunque aiutanti di Babbo Natale non so chi aiuti Babbo Natale in questo mondo ma sto puntato a volerla ah già gli scheriti i primi boss che non vogliono colpiti alla testa quindi il gioco può diventare anche più difficile e fastidioso di così andiamo a qualcosa da ok cambiamo un attimino armi liberiamoci di questi il dot che reca la lancia fiamme è fantastico perdonatemi ma dovevo mostrarvi Babbo Natale mostrarmeli con questa immagine per farmi vedere che arrivavano nemici da un lato dove non avevo la visione via dei nemici che non muoiono finalmente c'è sta hanno anche i loro colpi molto più facili da parare ragazzi appunto perché potrebbero rimanere sullo schermo più tempo come faccio a non fare vedere lo scontro contro Babbo Natale ragazzi perché Babbo Natale che c'entra con questo mondo non è il mondo di Biancaneve e chi è Jake Frost no neanche magari non è Babbo Natale ma fete i cali è Babbo Natale andiamo nel prossimo mondo scopriamo aspettate prima chi è beh sì un castello grandissimo ok Biancaneve Biancaneve quindi la principessa e la regina in questo caso sì è bellissimo dovremo salvarla e soprattutto ha una forza mostruosa ragazzi avete visto che quanta facilità con un semplice pugno ha distrutto l'elmo a quel soldato ci vediamo al nemico siamo arrivati finalmente nel castello ragazzi e posso dire con certezza che Biancaneve non è vestita appropriatamente per questo luogo a livello climatico sta cercando di semigliare Biancaneve quindi si è fatta il caschetto come lì e l'avrò messa qui sotto impressione ragazzi ma è malesemente squinti quindi si tu che ci hai fatto perdere i nostri amici non può finire così ci sarà un combattimento ci vediamo dopo ragazzi lo batteremo anche se non me l'aspettavo ragazzi è uno stereotipo è un mix tra posso ne manca dire Biancaneve vogliamo essere sinceri Mr. Chu di One Piece non ho idea di chi altro sia man è tutto hanno utilizzato di tutto per questo boss non ho idea di come perché la vediamo di schifare tutti gli attacchi questo sembrava un calcio alla fine potrebbe essere tranquillamente lui il cattivo ragazzi il finale non so non me lo ci vedo nel senso che credo che magari sia semplicemente una marionetta nelle mani di qualcuno il più forte faccio no fortuna queste guardie al lato io non lo disturbo ospita mi è partito che sbaglio ragazzi la sua vita è infinita penso che sia così potente perché deve fare più intermezzi è successo qualcosa l'ho interrotto su una combo è per fortuna schivabile facci dai no non mi ha preso questo qua è facilmente schivabile per fortuna però questo no non me lo aspettavo ma ragazzi io continuo attaccarlo ma la vita sotto non scende di una virgola forse dovremmo fargli fare per forza tutte le mosse delle colonne ora farò il calcio quindi o il bacio il calcio sì mister ciò bellissimo riso cazzo finirà finché non lo distrutto ecco da questo lato e ho perso se non mi spiego forse dovrei attaccare lui e lasciare perdere il resto forse non sto vedendo sta diventando anche che di final fantasy tutto insieme eh non potevo muovermi andiamo proprio prossima vita ospita ospita ragazzi ci vediamo alla fine lo batto lo so che ti dispiace ma non stai più che attaccarci così ma stai dire ragazzi sono partito molto demoralizzato dicendo ah è una deletante qui guarda sai cosa ci sta regalando questo gioco le dimono solo più attenzioni volevi essere amato da tutti ecco perché gli zombie cercano di amarci perché loro già lo amano vero no non soppire qualsiasi fraganza perché si muovivano così velocemente c'era una sificazione ma loro ricreatività abbiamo scoperto li ha usati un po' come veicoli di trasmissione come virus quindi gli gnomi questi nanetti sono un problema io voglio sapere chi ha fatto questa storia guardate come si è peccato tutti i colpi di pistola comunque effettivamente sì tutto molto bello ma hai distrutto un regno e i nostri amici e i nostri amici tra l'altro anche quello invertito giustamente però si dimenticheranno e pensate che volevo terminarlo l'avrei comunque finito ragazzi ma caspita così quanto è più bello finirlo con voi fatto comunque con ingiusti tagli ne vedrete davvero penso poco più di un'ora non credo venga più lungo di tanto quindi per gli standard di questo canale è un video brevissimo the end proprio così l'ultimo achievement l'ultimo achievement cos'è? le ragazze sono tre la modalità arcade vediamo ah ok quindi c'è la possibilità di scegliere le altre ragazze è Alice è Snow White si Dolce ok mago di Oz però c'è qualcosa che non quadra è proprio un architran ragazzi ci vediamo alla fine curioso siamo Alice ok ragazzi ho completato il gioco con Alice o con Jill come la vogliamo definire nella modalità arcade ho potuto notare che giustamente ogni comincia la storia così è sempre con il stesso personaggio beh no non ne vale la pena ogni ragazza naturalmente ha i suoi però i suoi contro come potete vedere da qui chi ha più potenza più velocità ho più possibilità di evadere per esempio Alice che ho utilizzato ora evadeva davvero molto lentamente rispetto a Momotaro o aveva una potenza di attacco maggiore o almeno mi è sembrato così ecco forse era la velocità invece Snow White è la più potente ora non so come sbloccare l'ultimo achievement lo troveremo sicuramente lo metterò qui sotto in pressione quando l'ho finito e vedremo insomma ho fatto un errore ai me nel giudicare il gioco troppo presto per quanto in realtà è naturalmente una burla rivolta al pubblico stesso e ci sta probabilmente bisogna finire la modalità arcade con tutti i personaggi suppongo lo farò metterò qui l'achievement e che dire così come ho detto a metà di questo video non è un gioco che porterei consciamente sul mio canale ma dato che appunto si va alla scoperta di tantissime tipologie di gioco i giochi che ho comprato che mi hanno attirato nel tempo che ho collezionato nella mia libreria beh questo era qui e che dire è una scoperta piacevole gli amanti del genere magari degli sparati subinari o comunque di quel genere di gioco possono apprezzarlo più di me io da semplice amante degli anime anime girl e tipi di giochi un po' pucciosi Nick non fa tanto per me per quanto mi abbia divertito tantissimo un po' troppo stereotipi ma se sono contestualizzati come in questo caso ci stanno ragazzi grazie mille per aver seguito questo video scusate i numerosi tagli ma erano inutili davvero certe scene per quanto riguarda gli stage già completati o rifatti e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi grazie mille per essere stati con me e per aver seguito questo video beh allora questa volta con Snow White grazie mille per aver guardato il video